L'attività aveva subito dei rallentamenti a causa della pandemia, ma ora riprende a pieno ritmo. La cappella musicale del Duomo di Fanno ha presentato il ricco cartellone di eventi, molti dei quali riferite ai servizi corali prestati durante le liturgie in cattedrale, numerosi anche i concerti in concomitanza con le festività religiose. Il coro, diretto dal maestro Stefano Baldelli, è composto da tre formazioni divise per fasce di età, dagli adulti ai ragazzi della scuola superiore, fino al gruppo dei pueri cantores, che comprende i bambini delle elementari e i giovani che frequentano le scuole medie. Le tre formazioni cantano spesso insieme o separatamente, a seconda delle occasioni. Tutti i concerti inoltre saranno ad ingresso gratuito e contingentato secondo le normative anti-covid. Quest'anno riproviamo a ripartire a pieno regime e con questo calendario che si apre appunto domani, mercoledì 2 marzo, con il primo servizio corale in occasione del mercoledì delle ceneri, che apre la quaresima e le celebrazioni che ci portano alla Pasqua. Ci sono alcuni appuntamenti concertistici che sono stati inseriti durante tutto l'arco dell'anno solare. Il primo è il sabato 9 aprile, il concerto che apre la settimana santa, prima della domenica delle palme, dove il coro eseguirà alcune musiche polifoniche che introducono al mistero della celebrazione della Santa Pasqua. Altri appuntamenti sono sempre in occasione delle principali festività liturgiche, come il Natale, ovviamente con il tradizionale concerto di Natale. Abbiamo previsto quest'anno come novità quattro concerti d'organo che prendono il nome di Vesperi d'organo e anche questi sono collocati in corrispondenza di alcune domeniche particolari. Uno in quaresima, nella quarta domenica, uno il giorno di ferragosto, che è la festa patronale della cattedrale, uno in occasione della festa di tutti i Santi e l'ultimo in occasione della terza domenica di avvento. E sono stati chiamati alcuni organisti della città di Fano, proprio per insaldare questo rapporto tra la cattedrale, l'organo restaurato e gli artisti e musicisti fanesi. In questa quarta stagione musicale, intitolata I suoni delle pietre, ricopre particolare rilevanza il concerto monografico dedicato a Giuseppe Ripini, maestro di cappella, un compositore di origine pesarese di fine Settecento, tenuto in gran conto all'epoca ma dimenticato nei secoli successivi. Le sue partiture sono conservate nell'archivio storico della diocesi di Fano e sono oggetto di nuovi studi per una sua riscoperta e presentazione al pubblico, con un evento che si terrà il 15 ottobre in cattedrale con coro, solisti e orchestra. Noi proporremo in anteprima, diciamo, moderna, queste sue musiche. Con iniziative che proseguiranno fino al prossimo Natale, dove è possibile consultarlo il calendario? Dunque, pubblicheremo questo calendario sulla pagina Facebook della cappella musicale, quindi lì si potranno vedere tutti gli appuntamenti, ma poi di volta in volta verranno pubblicati aggiornamenti specifici per ogni evento, quindi seguendo la pagina Facebook si può rimanere costantemente aggiornati.